a bella ragazzi benvenuti in questo nuovo video di game legacy io sono Giovanni e come oggi c'è Aldo e come hai detto siamo tornati sulla nostra carriera sul FIFA 15 con il nostro Southampton questa volta ci troviamo contro il west 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 sani ed l'armazio è quello che stiamo giocando abbastanza bella stiamo giocando bene abbiamo già pareggia don't deliver pur ricorda che ero l'ha da sempre a giardis pericolosi giro della vostra la sua vita alla fintura no mamma mia con le stile di copia attività 20 quanti atti di scivolata io la mette in calcio d'angolo siamo subendo abbastanza in questi di partita grande l'abbiamo fatto tutti ecco grandi partite no l'anno ha superato il portire due difensori è una recessione perdila perché scatta la fine del primo tempo se sono un segno dai cominciamo subito senza averci cominciamo subito passata subito a me e the goal il post bellissima gustazione di sei poco andato in mamma mia che recupero di lungo che schifo di passaggio che fa la fanculo scusa dai 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 che non dobbiamo perdere contro questo scuola gm noble è quella della che sta quando se trovi già è presente ma madonna mi attraverso della grazie a lotto che fanno non sarà da due le dico tutte se le cambia al settantottesimo per strada scendi tadic 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 mamma in mezzo a tutti no 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 ma e lo vado a abbracciare subito tadic mamma mia mamma mia mamma mia città 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 e quindi 1 0 0 0 il campo del western westbro entra il segno subito mai utile attenzione via in via 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 stavola fonte la lontana ma non trova piede mai utile liberissimo al compagno fascia tagliere e chiudere la partita il fatto il fatto la idea è la sua un'altra cosa da dietro subito approfittatore quagli amici due a zero stavolta se non pari guagliari guagliari di nuova tider 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 no che ha sbagliato che ha sbagliato che con l'illusione nei suoi occhi finisce qui la prima partita di oggi è piccolo ho detto di due quest'è un zero ci vediamo subito per la seconda partita eccoci nella seconda partita di oggi eccoci subito conoscere blackburn rovers ci sono ci sono ah ma sono io io credo che passa vero sconfuso credo di essere con la non non questa è una di colpa ma deve essere la fk guarda di assist che era bellissima c'è rude nella squadra c'è rude c'è rude c'è rude mamma mia fonte subito si sblocca la famiglia va subito ad abbracciare il suo amico trolla mamma mia fonte trova il go subito al testo gioco 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 st l'artista guanyan in velocità guanyan guanyan ma 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 l'accelerazione mezzo mezzo che schifo era che cazzo devi questo è un tiro a giro ma s subito pronti via antonio un po' un po' morto ho provato a fare la mossa di zack raiver ma la vita e finisce il primo tempo la vita della di avere la nostra di zack raiver che aveva fatto inizio di seguito dai test 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 teniamo i giocatori con con 2 di skill gioco no non mi vuoi se stanno metto un po' da se ne so tempo non ci sono giocatori con una stella di skill ovvio che non adesso non è colpeggiatore vai vai il cazzo sto facendo ma vabbè però il portiere che ha fatto s'allungata la mano la presa colmignolo questa la minacciata di morte se no la parabena guarda la presa con la scelta le mani che si trapassano quelle delle idee subito ammattare rodriguez berda no non si vede il rischio una della vita buona il grande punto mai giusto aiuto sfondo e va a fare un ruolo gioco 1 si emozionate facciamo dire le belle belle rai e lezze uomo mettiamo indietro punto che sta morendo beccati ora presso il blackboard 9 voglio il pareggio ma nuova questa sarebbe un'aggressione armata la mente vede la velocità di volpruzzo e scivola scivola che poi capitano solo tanto a quelli contro la vita se lui si che il io il cosa però che culo che ha avuto ma sempre su quella riazione e la muoviamoci attento, attento, attento ma ti salati da viviamo e viviamo cosi vai mamma mia ha preso, no, ha preso il palo esterno mamma mia che passaggio ci sto, ci sto vede sulla fascia il compagno Davis Davis rigore raffanculo per oggi è vero così, noi ci vediamo in un prossimo video bella